Con questa proposta di legge vogliamo introdurre in Emilia-Romagna il cosiddetto reddito energetico, cioè la regione Emilia-Romagna acquisterà e installerà impianti fotovoltaici da installare sopra i tetti dei cittadini. Questi impianti saranno concessi in comodato d'uso gratuito dando la possibilità ai cittadini di abbattere il loro costo della bolletta e di generare energia pulita. L'energia non consumata dai cittadini sarà immessa in rete e venduta dalla regione. Con i ricavi la regione provvederà a rifinanziare il fondo rotativo per poter installare altri impianti in tutta la regione. In sostanza sarà la regione a concedere in comodato d'uso gratuito questi impianti e soprattutto alle famiglie più bisognose. In questo modo aiuteremo questa famiglia ad abbattere i costi della bolletta e contemporaneamente garantiremo e permetteremo di aumentare la diffusione e la cultura dell'autoproduzione diffusa degli impianti di energia pulita. Con il reddito energetico i cittadini diventeranno veri e propri prosumers, cioè non solo consumatori ma anche produttori di un'energia diffusa sul territorio e verde, in questo modo diventando parte attiva alla lotta al cambiamento climatico e all'aiuto del nostro ambiente. Con questa iniziativa spingiamo sempre di più la regione Emilia Romagna verso un modello di generazione distribuita e a centrare e superare gli obiettivi del piano energetico regionale per arrivare a coprire sempre di più il fabbisogno di energia elettrica tramite fonti rinnovabili e di energia verde. Vi invitiamo quindi a leggere questo progetto di legge e a inviare le vostre proposte migliorative. Grazie.